Nicola, il gol più importante è forse la tua carriera? Sì, forse è anche l'unico, dei professionisti, però per fortuna è arrivata una partita decisiva. Vittoria meritata? Vittoria meritata, abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto palla, abbiamo rischiato qualcosa alla fine, però meritata sicuramente. Adesso è affrontata la cremonese, insomma una partita mai banale quest'anno? No, partita difficile, però ce l'andiamo a giocare a viso aperto.